C'è anche un po' di Salerno nella ripartenza del teatro a Barcellona. Luca Galdi, direttore e fondatore della Compagnia Teatrale Italiana di Barcellona, è stato tra gli artefici del successo conquistato al Festival del Teatro Italiano, dove il suo gruppo, composto prevalentemente da attori campani, ha portato in scena Galantuomini si nasce, facendo registrare il tutto esaurito. Rivolgiamo agli oltre 100.000 italiani che vivono appunto a Barcellona. Siamo stati invitati ad aprire il Festival di Teatro Italiano di Barcellona, che è alla seconda edizione, organizzato da Sandro Dieli, ed è stato un grandissimo successo. Abbiamo portato in scena una commedia che si chiama Galantuomini si nasce e è stato bellissimo, straordinario di vedere i teatri pieni al 100%. Un trionfo per il Made in Italy, ma anche per i tanti operatori, che dopo le difficoltà provocate dalla pandemia stanno gradualmente riprendendo la loro attività. La Spagna è stata un po' più aperta dell'Italia, soprattutto in quello che viene chiamato il secondo lockdown, cioè quello che è venuto dopo l'estate dell'anno scorso, perché i teatri non hanno mai chiuso del tutto, ma c'erano ovviamente le forti restrizioni. E' anche interessante studiare come è cambiato il pubblico nel post, diciamo, post, tra virgolette, covid, nella fase post vaccino, perché la gente ha tanta voglia di ridere, di divertirsi e di distrarsi dopo un anno e mezzo di inferno.